Scarificazione, bitumature, segnaletica, orizzontale sono gli interventi previsti dall'appalto denominato Gela Ovest, i cui lavori sono partiti ieri mattina. Il progetto riguarda circa due chilometri di strade di pertinenza comunale all'ingresso occidentale della città verso Manfria ed è stato aggiudicato dall'Urega per un milione di euro a due ditte di Gela e Palermo. Iniziamo a fare la manutenzione sulle strade poste a dovest della città, a breve inizieremo anche in questa stessa settimana i lavori della zona est, soprattutto quindi l'ingresso di Gela dalla parte di Vittoria. Ci dispiace per i problemi, i fastidi che daranno questi lavori per la viabilità, però credo che sono importanti per ridare al manto stradale quella sicurezza di cui abbiamo bisogno. È una strada che è percorsa da tantissime autovetture, considerate solo ieri la fila partiva da Manfria fino a qui, quindi è chiaro che è un intervento molto importante, devo dire anche finalmente, perché aspettiamo da qualche mese, però siamo riusciti ad iniziare. Come vedete stiamo operando solo su una corsia per adesso in modo tale che evitiamo di bloccare il traffico e si proseguirà poi sulla via Venezia e su altre vie limitrofe come la via Mattei. Soltanto per oggi, giorno del mercato settimanale a Marchitello, i lavori sono sospesi. Già in settimana potrebbero essere aperti anche i cantieri di un altro maxi appalto, quello relativo a Gela Est, che interessa le arterie all'uscita per Vittoria.